Facile dire baci, poi neggi gli ingredienti e c'è latte, burro e se ti dicessi che oggi li facciamo vegani e anche proteici ma buoni come gli originali. Ceci, cacao, burro di nocciole, sciroppo d'acero o d'algave. Granella di nocciole. Ed ora due opzioni. Prima opzione, aggiungi agli impasti cioccolato fuso d'olio di cocco. Questo renderà il bacio solido identico all'originale. Opzione numero due, sostituisci questi ingredienti con farina di nocciole. Questo renderà il bacio più tenero ma molto molto più leggero. Perfetto per chi ricerca ricette fit. E dopo essere solidificati in frigorifero, arriva la delizia. Spaziali! Questi li regalerò.